Abbiamo qui con noi questa sera il piacere di ospitare Andrea Cionci. Ciao Andrea, benvenuto. Buonasera Margherita, grazie. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Andrea Cionci è uno storico dell'arte, giornalista e scrittore e lui stesso si definisce come ricercatore del bello, del sano e del vero. E quindi, proprio per questi motivi, come scrive nel suo blog su Libro, vive una relazione complicata con l'Italia, che ama la follia, sebbene non di rado, ovviamente, gli spezzi al cuore come a molti di noi. Cionci è oggi, insomma, negli ultimi anni, nell'ultimo tempo, soprattutto agli onori della ribalta, in particolar modo per Codice Ratzinger, famoso saggio ormai edito per Bioblu nel 2022, in cui viene dettagliata la situazione venutasi a creare in Vaticano, successivamente alla Declarazio di Benedetto XVI. Per cui, cosa chiediamo immediatamente ad Andrea Cionci? Gli chiediamo di raccontarci qual è stato il meccanismo di diritto canonico innescato dalla Giro di Benedetto XVI, proprio quel meccanismo che hai spiegato bene nel concetto di sede impedita nel libro. Sì, grazie. Dunque, un breve preambolo. Negli anni 70, Paolo VI commissiona a Monsignor Gagnon un'inchiesta sulla massoneria ecclesiastica. Questo monsignore francese produce dei risultati terrificanti, tanto che il segretario di Stato, il cardinale Dio, era massone, il cardinale Buglini, idem, però Paolo VI non riesce a intervenire perché muore dopo poco tempo. Lo stesso dicasi per Giovanni Paolo I. Ai primi anni 80, Giovanni Paolo II, dopo l'attentato, richiama a Monsignor Gagnon e si fa consegnare questo dossier. Dopodiché, leggiamo nel volume Ultime conversazioni, scritto da Benedetto XVI nel 2016 con il giornalista Sevald, quando fu messo al corrente di certa sporcizia nella Chiesa, non meglio identificata da Ratzinger nel suo libro, Papa Voitigua dà carta bianca al cardinale Ratzinger per creare nuove norme e strutture giuridiche. E così, nella nuova edizione del 1983, il cardinale Ratzinger inserisce nel canone deputato all'abdicazione del Papa la necessità di rinunciare al munus petrino. Che cos'è il munus petrino? Costituisce l'essere Papa, quella investitura di origine divina che Dio stesso conferisce al neoeletto pontefice. Munus che è ben diverso dal ministerio, il potere di fare, il Papa, la stessa differenza che passa tra la patente di guida, il munus, e la conseguente facoltà di circolare in automobile. Sono due cose che vanno insieme, ma naturalmente sono due cose diverse. E infatti, se il Papa perde il munus, se rinuncia al munus, c'è un'abdicazione regolare. Se il Papa invece rinuncia al ministerium, se perde il ministerium, il potere di fare il Papa, la sede di fatto è impedita, perché il Papa rimane sempre Papa nell'essere, ma perde il potere di fare il Papa. E che cos'è la sede impedita? È uno Stato in cui il pontefice è prigioniero, esiliato, confinato, non libero di fare il Papa. Quindi nei miei tre anni di inchiesta, 800 articoli, 500 podcast, un volume di 340 pagine venduto in 20.000 copie, appunto Codice Ratzinger, ho messo a fuoco come la declarazione di Papa Benedetto non sia stata altro che un annuncio di prossima sede impedita. Infatti lui dice che a una certa data perderà il ministerium, come a causa della convocazione di un conclave illegittimo, convocato mentre il Papa non era morto e non era abdicatario. A questo punto però dalla declarazione del 2013, la sua morte, Papa Benedetto però ha proseguito, ha continuato a comunicare con i fedeli, con il suo popolo, però da una posizione diversa evidentemente, quindi con un linguaggio più complesso e più raffinato. Con che modalità lo ha fatto che ci fa comprendere determinate cose, ci fa comprendere la questione proprio della sede impedita? Certo, vedo che hai colto perfettamente il fulcro della questione, Margherita. Papa Benedetto, essendo in stato di confino, di esilio, prigionato sostanzialmente, non era libero di potersi esprimere, quindi lui utilizza un codice, cioè uno stile particolarmente raffinato di comunicazione in cui ci fa capire, mi ha fatto capire piano piano, che lui non era abdicatario ma era impedito. Per esempio ha detto per sette anni consecutivi il Papa è uno solo senza mai spiegare quale, oppure ha detto sono il primo Papa a essersi dimesso dopo mille anni, ma sappiamo che l'ultimo abdicatario è del 1415, quindi nel 2013 meno 1415 fa poco meno di 600, quindi come fa a dire una cosa del genere e così via. Ho scoperto in tempi recenti che questo codice comunicativo, che non è niente di esoterico, di numerologico, di cabalistico, ma sono rimandi logici, sono giochi logici, sono rimandi alla scrittura, rimandi alla storia, rimandi all'attualità, tutte cose che necessitano di un pochino di applicazione o mentale o di ritorno alle fonti, di recupero delle fonti. Ho scoperto in tempi recenti che questo sistema di comunicazione in realtà non l'ha inventato Papa Benedetto, neanche Andrea Cionci ovviamente, ma si chiama restrizione mentale larga. È un concetto della teologia morale, per cui voi sapete che è peccato dire falsa testimonianza, ma a volte se si dice la verità to cure a persone cattive, a malintenzionate, persone che non la meritano, si rischiano di fare dei grossi danni di cui possono fare le spese gli innocenti. E quindi la restrizione mentale larga è un modo per dire la verità, ma in un modo più sottile, più larvato, cosa che non consente di non commettere peccato, ma tra virgolette di fare fessi i nemici. Ecco, posso fare un esempio molto evidente. Immaginiamo un fuggiasco, un povero innocente, che viene perseguitato da una polizia cattiva. Questo fuggiasco si rifugia in un convento, arrivano i poliziotti e chiedono siete voi che nascondete Luigi Rossi? Ora, se i monaci dicono sì, non nascondiamo noi, Luigi Rossi viene fucilato. Se dicono no, noi non nascondiamo Luigi Rossi, commettono peccato e quindi cosa possono fare? Possono dire noi non nascondiamo delinquenti. E quindi, siccome Luigi Rossi non è un delinquente, ma un povero innocente, i monaci riescono a fare fessi di poliziotti cattivi e Luigi Rossi salva la vita. Questo, diciamo, in sintesi, il meccanismo della restrizione mentale varia. A questo punto, possiamo dire, visto il preambolo che è stato fatto anche sul dossier sulla massoneria, possiamo dire che Papa Benedetto ha fatto qualcosa di storico, cioè come liberare la Chiesa da un gioco che durava da circa 300 anni, ovvero la progressiva infiltrazione occulta al suo interno? Certamente, perché, vedete, la massoneria non si distingue molto facilmente, cioè un prelato massone non si distingue facilmente da un prelato cattolico, perché a livello superficiale anche la massoneria parla di fratellanza, di pace, di amore, eccetera, eccetera, tutti questi valori così zuccherosi, no? Infatti, in massoneria, ai gradi bassi, c'è un sacco di gente in buona fede, poi quando si arriva al trentatresimo grado si scopre che adonano il diavolo e allora molti escono fuori. Quindi, il Papa Benedetto ha messo in piedi un geniale sistema anti-usurpazione, perché questo conclave illegittimo che lo ha posto in sede impedita ha reso immediatamente antipapa Bergoglio. E così, come sempre è avvenuto nella storia della Chiesa, tutto ciò che ha fatto l'antipapa deve essere annullato dall'inizio alla fine. Ma questa cosa doveva essere scoperta poco per volta, in modo che la massoneria ecclesiastica che oggi governa avesse il tempo di manifestare le proprie intenzioni inversive. E infatti, piano piano, gradatamente, a partire dal 2016, con le prime resie, passando per il 2018, con l'intronizzazione della Pacia Mamma in San Pietro, che è un demon, in ottica cattolica, oggi siamo arrivati alla benedizione di quello che è considerato dalla dottrina cattolica il secondo dei quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, cioè il peccato contro natura. insieme a obbicidio volontario defraudare i lavoratori della giusta mercede e i primeri poveri. Praticamente il programma del World Economic Forum. Comunque, questi lo hanno applicato. Ma è avvenuto tutto molto gradatamente, in modo overtoniano, nitridatizzando, per così dire, il popolo cattolico che oggi è assuefatto anche a questa inversione assoluta. Quindi, Papa Benedetto ha fatto in modo che questa realtà gnostica massonica si manifestasse gradualmente fino ad arrivare a scoprire che Bergoglio non è mai stato eletto da un conclave valido. Perché nel 96 il cardinale Ratzinger scrive la Universi Dominici Gregis che è la legge che regola l'elezione del pontefice alla vacanza della sede dove innanzitutto si dà il potere ai cardinali di intervenire per tutelare i diritti della sede apostolica e poi agli articoli 76 e 77 nel loro combinato si dice che se la vacanza della sede per rinuncia del pontefice non è avvenuta a norma del canone 332.2 quello appunto che richiede la rinuncia al munus che non c'è mai stata l'elezione che ne consegue è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Quindi oggi abbiamo poco tempo fa l'8 novembre abbiamo indirizzato 11.500 firme per una petizione ai veri cardinali nomi in apri 2013 affinché constatino che Benedetto XVI era in sede impedita che il Papa è morto e convochino immediatamente il conclave. Ed è possibile questa petizione come si sta svolgendo? Certo che è possibile basta che un solo cardinale dica il Papa è morto il Papa era benedetto sedicesimo e bastano tre cardinali per fare un conclave valido cioè lo Stato Vaticano è uno Stato che ha delle sue leggi il Papa non è un monarca assoluto tipo l'imperatore Nerone è sottoposto alle leggi della magistratura vaticana del diritto canonico cioè può essere benissimo messo sotto inchiesta aspettiamo che un cardinale di nomina per il 2013 prenda finalmente l'iniziativa e inneschi il processo giuridico per mettere sotto inchiesta Bergoglio e farlo arrestare a norma del canon 1375 che sanziona l'usurpazione di ufficio ecclesiastico quindi è chiaro che finché i cardinali non si sentono supportati stimolati pressati a intervenire dal popolo cattolico difficilmente si metteranno in moto purtroppo dobbiamo fare i conti anche col fuoco amico perché c'è una larga parte del mondo tradizionalista che invece di accogliere con entusiasmo approccio critico naturalmente ma entusiasmo collaboratività la mia inchiesta che è il lavoro più ponderoso in assoluto che sia mai stato compiuto sul pianeta circa le dimensioni di Papa Benedetto mi danno addosso mi danno addosso questa è una cosa incredibile io penso che Papa Benedetto dal cielo sia schifato da questo spettacolo di vedere quelli che se ne inventano di tutti i colori pur di non fare quello che lui ha predisposto insieme a Giovanni Paolo II è una cosa vergognosa e se questa cosa fallirà e se la chiesa canonica visibile finirà sarà colpa di questi tradizionalisti perché lui ci ha messo in mano tutto quanto considera Margherita che se il prossimo conclave questo è l'aspetto fondamentale da capire se il prossimo conclave annovererà anche solo uno dei falsi cardinali di nomine antipapale verrà fuori un altro antipapa privo del munus petrino e proseguirà la linea successoria antipapale di Pergoglio e la chiesa canonica visibile sarà finita quindi la chiesa dovrà siccome diciamo c'è un dogma dell'indefettibilità della chiesa visibile ma non c'è un dogma che sancisce che la chiesa manterrà tutti i suoi soldini il Vaticano la Cappella Sistina e le azioni i titoli i terreni i beni immobili e immobili eccetera quindi non è detto che la chiesa per come la conosciamo possa continuare vi spiego c'è stato un colpo di stato ok a una famiglia è subentrata un'altra famiglia reale come quando agli Stuart in Inghilterra cattolici Maria Stoarda viene decapitata e il suo posto viene usurpato da Elisabetta Tudor protestante in una monarchia la successione dinastica avviene per via biologica cioè il primo figlio primogenito del re quando il re muore eredita il trono lo sappiamo tutti questa successione dinastica nella monarchia che è il papato avviene attraverso la concessione del modus cioè è Dio stesso che come posso dire conferisce il DNA divino al nuovo papa e questo può avvenire solo attraverso un legittimo conclave con veri cardinali tutto il regolo tutto l'effetto quindi se non c'è un legittimo conclave viene fuori un antipapa che non ha più questa protezione speciale dello Spirito Santo ricordiamoci che il munus non è una una questione un titolo onorifico al munus è legata l'infallibilità del papa nei pronunciamenti straordinari ma anche in quelli ordinari in tema di morale dottrina costumi eccetera quindi per così dire il munus è la garanzia di qualità che Dio stesso imprime sul pontefice e lo rende custode del deposito della fede attenzione nella storia noi abbiamo avuto anche dei papi peccatori e severamente peccatori lo sappiamo ma nessuno di loro è mai stato pervicacemente e volontariamente eretico abbiamo avuto solo il papa onorio che per un per un equivoco di una traduzione dal greco era caduto nell'eresia del monotelismo ma null'altro 265 papi roba da ericante errori fatti involontariamente qui siamo all'inversione arrovesciamento studiato consapevole e chirurgico della fede cattolica è una cosa agghiacciante anche perché io poi ho fatto degli studi sulla spiritualità di Bergoglio che non è affatto cattolico e ve lo dimostra un dato obiettivo lui stesso dice le dimissioni di papa benedetto sono state poco chiare oh benissimo quindi se tu fossi un papa legittimo e se fossi cattolico dovresti essere terrorizzato dall'idea di non avere il murus petrino a causa di dimissioni presuntamente invalide di papa benedetto quindi la prima cosa che dovevi fare già nel 2014 quando venne fuori il libro di soci doveva essere correre da papa benedetto e dirgli ma santo padre lei che ha combinato qua è tutto da rifare non mi ha lasciato il murus petrino io non ho l'assistenza dello spirito santo come si fa quindi il fatto che lui invece abbia reagito col silenzio al massimo dicendo non fate chiacchiericcio cioè non parlate male della mia legittimità e vi dimostra primo che non è il papa secondo che non è cattolico mi sembra evidente e tutto questo come accennavi anche prima genera comunque confusione sia tra i fedeli che anche tra i sacerdoti soprattutto tra i fedeli cosiddetti non tiepidi che in sostanza sono quelli che non accettano la fiducia supplicans e altre cose tra cui appunto la possibilità di benedire seppur a certe condizioni limitazioni delle coppie irregolari omosessuali e tra questi fedeli non tiepidi mi sembra che ci siano due atteggiamenti differenti verso Bergoglio e la Chiesa che costituiscono un muro tra i cristiani e quindi creano dei problemi a far emergere la verità perché da una parte c'è chi considera Papa Benedetto un grandissimo teologo e lo stratega appunto della demistificazione della massoneria ecclesiastica dall'altra parte invece c'è chi lo considera semplicemente come il precursore del modernismo bergogliano però a questo punto se fosse così se fosse il precursore del modernismo di Bergoglio bisognerebbe anche dire che nelle stesse condizioni di debolezza psicofisica e anche fisica dovrebbero essere stati anche i papi precedenti cioè Papa Giovanni Paolo II Paolo VI Giovanni XXIII cioè tutti i papi post conciliari quindi a questo punto questi papi sono stati troppo furbi per essere papi oppure come dicevi te come accennavi hanno avuto l'assistenza dello Spirito Santo e hanno fatto la volontà del titolare della cattedra come si esce quindi da questa in passo cioè vorrei capire meglio dove è stato fatto allora la questione è tutta colpa del concilio con l'h finale tutta colpa del concilio che è questo mantra che ripetono i tradizionalisti è vero in parte cioè questa agnosi questa eresia inversiva satanistoide che perseguita la chiesa fin dai suoi inizi con il concilio sfonda la porta diciamo mette un piede nella porta ed entra e dilaga e i papi post conciliari hanno dovuto difendersi probabilmente anche scedendo del terreno a tratti di fronte a questa invasione massonico-gnostica della chiesa nei gangli più importanti tant'è che già Paolo VI è stato aggredito da un pugnalatore questo attentatore era un paciamamico perché amava gli indigeni dell'Amazonia i culti andini la teologia della liberazione era un proto bergogliano a Papa Luciani l'hanno fatto secco Giovanni Paolo II gli hanno sparato l'hanno pugnalato di Papa Benedetto si dice che abbia subito un tentativo di avvelenamento c'era un complotto per ucciderlo come viene fuori da Vatilix e poi viene costretto a togliersi di mezzo però Papa Benedetto che cosa ha fatto? Ha applicato questo congetto che già dall'83 era pronto preparato insieme a Papa Voitiva quindi il problema dei tradizionalisti che sono dominati da una posso dire una tetragona fiducia in se stessi nella propria visione assolutamente non tornerebbero mai sui loro passi per constatare quello che ha fatto Papa Benedetto cioè il paradosso è questo è come se Ratzinger inseguito da nemici preponderanti si fosse ritirato passando su un ponte ma prima di scappare dall'altra parte ha minato questo ponte non appena i nemici passano sopra lui va dai suoi commilitoni e dice guardate che il ponte è minato basta fare clic e saltano tutti per aria e i suoi commilitoni non lo prendono sul serio perché gli dicono ah vedi tu sei scappato tu eri complice tu di qua tu di là e quindi il ponte non salta a causa dei commilitoni che non vogliono credere al soldatino Ratzinger questa è la vera tragedia non è la tragedia di Bergoglio la tragedia è il fatto che il mondo farisaico di certo tradizionalismo ha voltato le spalle al vicario di Gesù Cristo per rimanere arroccato sulle proprie convinzioni sul proprio rancore antimodernista che ha fatto di tutta erba un fascia e che non ha capito niente per farti un esempio di quanto loro non hanno capito niente un esempio plastico visivo una delle cose che rimproverano a Ratzinger è che quando è stato eletto Papa ha tolto dallo stemma pontificio la tiara il triregno sai perché lo ha fatto? perché lui già sapeva che un giorno si sarebbe dovuto defilare in sede impedita già sapeva che qualcuno gli avrebbe chiesto di rimuovere la tiara perché la tiara è il simbolo più evidente della sovranità del Papa e invece quando il cardinale di Montezemona gli ha fatto una simile richiesta lui gli ha detto no grazie eminenza non voglio cambiare il tuo stemma e nessuno gli ha detto niente perché con quella innocua Mitria Vescovile lui lo stemma papale se l'è portato nella tomba capite? come bisogna avere fiducia nel Papa perché quello era ispirato dallo Spirito Santo se siete cattolici e allora dovete essere ubi dovete entrare in contatto con la verità dei documenti non dare retta a ciocci chi se ne importa di cionci dovete dare retta ai documenti che ha tirato fuori cionci alla ricostruzione rocciosa di questa realtà che trova una come posso dire una verifica immediata nella Universi Dominici Grecis andate a vedere la Universi Dominici Grecis se la rinuncia non è avvenuta a norma del canone 332 che ha inserito lo stesso Ratzinger che ha fatto lo stesso Ratzinger l'elezione è nulla invalida allora come potete pensare che Ratzinger fosse modernista si fosse sbagliato di quale errore sostanziale tutte quelle teorie balorde l'ha fatta lui la modifica al diritto canonico l'ha ribadita lui nel 96 con la Universi Dominici Grecis se poi nel 2013 si sbaglia perché magari beve un grappino di troppo ma per favore siamo seri a questo punto è bene introdurre anche il tema non solo dei fedeli ma il tema anche dei sacerdoti che sono un po' in crisi perché ho notizia correggimi se sbaglio che esistono dei sacerdoti che non pronunciano la comunione con Papa Francesco ma se ne stanno prudenti dietro un ambone a impartire i sacramenti ai fedeli quindi in maniera prudente cioè realizzano la loro missione pastorale dentro l'istituzione che indicano come usurpata in silenzio sostanzialmente e perché mai dovrebbero questi sacerdoti considerare la loro prudenza come un difetto oppure perché dovrebbero andare in rete come taluni fanno e ostentare quasi una sfida al potere cioè mi riferisco nel caso specifico questi sacerdoti devono per forza fare un coming out cosiddetto pubblico perdere tutto e mettersi sotto l'obbedienza per esempio di Don Minutella guarda la chiave della risoluzione di questo congegno anti usurpazione Papa Benedetto l'ha data al popolo cattolico perché perché lui sapeva benissimo che la chiesa sarebbe stata usurpata da un antipapa che avrebbe tenuto in pugno le gerarchie ecco perché dice se l'elezione non è avvenuta a norma eccetera eccetera è nulla invalida senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito perché se devi aspettare la dichiarazione dei vescovi e dei cardinali campa cavallo invece in questo modo senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito Papa Benedetto ha dato la palla ai fedeli al popolo cattolico ai pastori di più basso rango i preti ora com'è che si spazza via questo mistero di iniquità con l'irruzione della verità e allora questa verità va gridata dai tetti ecco perché Don Minutella che sia simpatico o antipatico comunque lui è l'unico che ha gridato fin dal 2016 che Bergoglio non era il Papa lui non aveva compreso già all'epoca tutto dalla questione della sede impedita ma aveva già verificato all'epoca che la declarazione non era venuta a norma del canone 332.2 e questa è una cosa vecchia quanto il cubo quindi per esempio Don Ramon Guidetti che è stato l'ultimo sacerdote a fare coming out per così dire ha guadagnato le prime pagine dei giornali nazionali dei Guardian del Washington Post delle Spagnole cioè ha fatto il giro del mondo questa cosa perché anche a livello del coscio collettivo non si può più di questo antipapa e quindi il mainstream adesso sta cominciando a rimbalzare queste notizie ora ne parlavo giusto ieri con un amico l'aspetto spirituale della preghiera del nascondimento di continuare ad assistere i fedeli in clandestinità per così dire è importante ma c'è una sproporzione enorme tra quelli che combattono a viso aperto che sono 8 su 30.000 sacerdoti e quelli che invece rimangono nelle canone se uno a settimana uscisse un sacerdote che pubblicamente dichiarasse la verità guardate che per coglio non era il papa perché Benedetto non era non era abdicatario ma impedito e nel giro di due mesi quel signore bianco vestito sarebbe arrestato probabilmente e invece no tutti che se la fanno nei pantaloni rimangono a dire il rosario nel nascondimento eccetera che però è anche una situazione comoda e invece dovete fare dovete gettare il cuore oltre l'ostacolo dovete dire la verità dovete testimoniare anche col vostro sacrificio cioè nessuno ha detto di fare i preti se volevate fare gli impiegati del catastro cercavate un ruolo una professione più comoda avete voluto fare i preti dovete testimoniare fino al martedio tra l'altro vi assicuro che i fedeli non vi lasceranno con le pezze perché tutti i sacerdoti che hanno fatto questo salto poi sono stati assistiti dai fedeli e hanno avuto tutto quello che la provvidenza gli doveva dare quindi io dico coraggio testimoniate la verità uscite fuori lasciate perdere il piccolo greggio delle vostre 30-40 anime e informate le 500 mila i 5 milioni di anime che capiranno la realtà dite a una parrocchia più grande universale gridate la verità non fate strategie tattiche di piccolo capotaggio ma gridate la verità perché la verità è l'unica cosa che può salvare la chiesa però ci possono essere anche delle fazioni che si vengono a creare in tutto questo cioè come quelle appunto di Don Minutella o come quella di Monsignor Viganò e non c'è il rischio che si creano dei gruppi troppo autoreferenziari in questo senso perché se la volontà divina è che la chiesa debba comunque essere messa alla prova perché non lasciare che la prova si compia piuttosto che dare l'impressione che si tratti di una corsa al potere sostanzialmente perché a volte con tutte queste dichiarazioni potrebbe anche sembrare questo una corsa al potere di fazioni interne alla chiesa stessa domanda interessante allora io sono stato giornalista mainstream che più e meglio ha scritto di Monsignor Viganò a partire dal 2020 tanto che avevo una corrispondenza con lui man mano che andava avanti la mia indagine io gli mandavo i miei articoli gli ho mandato centinaia di articoli e però lui non solo diciamo diceva delle cose molto giuste contro Bergoglio sul nuovo ordine mondiale cose assolutamente impeccabili per carità ma tirava delle legnate anche a Papa Benedetto a era modernista a era gheliano a ci ha infilato in questo pasticcio col monstrum giuridico del papato emerito eccetera eccetera io dagli a dire guardi eccellenza che le cose non stanno così Papa Benedetto ha predisposto questo meccanismo eccetera eccetera gli ho mandato centinaia di articoli il libro lettere pubbliche lettere private appelli filiali ho cercato di essere ricevuto ho cercato di farlo avvicinare da persone a lui contigue non c'è stato verso neanche di avere una risposta non mi ha mai smentito viceversa negli ultimi tempi ha cominciato a censurare la questione della sede impedita a combatterla a ostracizzarla sponsorizzando libri della San Pio X che mi danno addosso come quello di Don Di Sorco e poi è arrivato a dire su Twitter che siamo governati da apostati dai tempi del concilio quindi anche Benedetto era una apostata visto che governava la chiesa e poi ha messo like a un posto dove si diceva che Ratzinger era eretico tanto quanto runner adesso è arrivato a farsi consacrare vescovo da Monsignor Williamson cosa che da lui non è stata smentita in modo diretto e il 9 dicembre scorso è venuto a dirci in una conferenza purtroppo non esistono soluzioni umane per rimuovere pericoglio e quindi a me è venuto un fierissimo sospetto scusa se io vado da un magistrato per denunciare un reato quello non ti ascolta insabbia la pratica la fa sparire si fa negare al telefono fa il vago eccetera eccetera allora tu che pezzi che il magistrato sia colluso col delinquente quindi la mia opinione personale che non è un'illazione cattiva ma è un portato logico io credo che Monsignor Viganò abbia fatto una specie di accordo con Bergoglio della serie noi ti pariamo le spalle sulla sede impedita o comunque lui non vuole che in alcun modo esca questa faccenda della sede impedita che è risolutiva e perché noi ci vogliamo ricavare uno spazio nostro un arcipelago nostro e tradizionalisti eccetera eccetera ed è quello che infatti sta facendo lui dice non esistono soluzioni umane per risolverlo al caso di Bergoglio e non è vero non è vero perché l'Universi Dominici Grecis articoli 3 76 e 77 parla chiarissimo parla chiarissimo ma evidentemente è carta straccia quindi Don Minutella non è che mira al potere Don Minutella è uno che ha fatto il suo dovere fino in fondo e si è fatto martirizzare e a lui faranno una statua nel futuro perché è stato il primo e l'unico sacerdote a gridare la verità e ascoltarla amarissimamente sulla sua pelle che poi possa avere dei tratti caratteriali che magari a qualcuno dispiacciono ci sta però la sua figura va giudicata a livello storico pure De Gaulle fumava troppe sigarette però non è che i francesi ce l'hanno con De Gaulle perché fumava troppe sigarette ha comunque liberato la Francia occupata quindi il merito di Don Minutella va inquadrato su una scala storica anche perché non mi risulta che ci siano stati altri preti che come lui non solo hanno gridato la verità non solo hanno pagato non solo hanno creato un canale coagulato altri sacerdoti dato coraggio portato i sacramenti in giro per il mondo in unione col Papa in unione col Papa in unione con la Chiesa non ce ne sono stati altri quindi il problema cara Margherita è che qui bisogna fare tabula rasa del mondo delle emozioni il rancore l'invidia la gelosia l'ira la tristezza la rabbia tutte queste emozioni disturbano l'attenzione non fanno capire il meccanismo infallibile e micidiale con cui Papa Benedetto ha spacciato non solo Bergoglio non solo tutti i suoi ma anche fatto piazza pulita dei danni del concilio dei guasti del concilio quindi quelli che ce l'hanno a morte col concilio l'unico modo per liberarvi del concilio è fare quello che ha predisposto Benedetto XVI perché questa è la purificazione della Chiesa certo non ve l'ha nulla il Giovanni XXIV l'antipapa che sarà eletto dopo Bergoglio però la posizione di Monsignor Viganò è diversa da Don Minutella e quindi anche in questo caso bisognerà fare una valutazione storica perché comunque Monsignor Viganò non vuole rimuovere Bergoglio dice che è impossibile invita a resistere e invece io e Don Minutella vogliamo che Bergoglio sia arrestato a norma delle leggi della Chiesa altro che resistere altro che resistere perché guarda mi diceva un ex ufficiale dei Carabinieri in una conferenza diceva vedete la democrazia cristiana ha sempre fatto una retorica circa il fatto di combattere la mafia resistere la mafia eccetera eccetera non hanno mai parlato di estirpare la mafia perché tutta quella retorica sul combattere e resistere vuol dire che tu ci devi convivere con la mafia e invece nessuno che ha detto che doveva essere estirpata ecco noi vogliamo estirpare Bergoglio non abbiamo alcuna voglia di resistere semmai sarà lui a occuparsi di resistere a noi noi non dobbiamo resistere Bergoglio non dobbiamo combattere Bergoglio dobbiamo semplicemente spingere i cardinali ad applicare le leggi della Chiesa e ad accompagnarlo dove deve essere accompagnato quindi le mosse di Monsignor Viganò rientrano comunque in una sorta di corsa al potere sì ma un potere è una è una corsa eversiva che lui fa per conto suo a mio giudizio è quello che io chiamo gatekeeping cioè che si chiama gatekeeping con una parola inglese cioè di senso controllato perché dico questo perché lui negli ultimi mesi ha cominciato anche lui a dare mostra di voler rimuovere Bergoglio ma come? non attraverso la sede attraverso tutta una serie di false piste ah Bergoglio eretico bisogna deporre il Papa eretico e gli risponde Monsignor Schneider che secondo me sotto sotto è pure d'accordo dice no purtroppo il Papa eretico non si può deporre perché manca la giurisprudenza e ha ragione su questo allora Viganò tira fuori eh beh ma pare che ci siano state delle irregolarità nel conclave 2013 e gli risponde Schneider eh ma le irregolarità nel conclave possono essere sanate dall'accettazione pacifica dei cardinali ogni volta ce n'è una allora che ti tira fuori Monsignor Viganò il vizio di consenso il vizio di consenso cioè dire beh eh siccome lui dimostra di non essere amico della chiesa ma inimicus ecclesie si deve presupporre che al momento dell'elezione non volesse accettare il papato per gli scopi cioè in precipi no? ma questo chi ce lo prova? tu dovresti trovare una lettera del cardinale Bergoglio del 2013 che poco prima di essere eletto dice sì voglio essere eletto papa per fare a pezzi la chiesa cattolica allora sì si potrebbe anche immaginare una cosa del genere ma non esiste alcuna prova e infatti poi Viganò che viene a dirvi che non esistono soluzioni umane e la sede impedita la ostracizza la censura tanto che in quella conferenza del 9 dicembre fatta con Edmund Mazza delle persone che erano state invitate a fare da relatori gli è stato impedito di parlare di sede impedita gli è stato esplicitamente vietato cioè se tu vuoi partecipare alla mia conferenza assolutamente non devi toccare questo tasto allora scusate non è che ci abbiamo la sveglia al collo uno capisce che questo è un gatekeeping è un dissenso controllato per una strada eversiva io non sono in grado di giudicare se Monsignor Ficarolo faccia in buona o cattiva fede quello riguarda il suo foro interno ma sicuramente non è la strada indicata dal vicario di Gesù Cristo ispirato dallo Spirito Santo che è una strada perfetta perché anche a livello teologico se ci pensi c'è una perfetta sovrapposizione tra l'aspetto canonico che consente di portare a maturazione insieme il grano e la zizzania e per esempio la lettera di San Paolo Apostolo e Tessalonici quando il cateco cioè il trattenitore dell'anticristo viene tolto di mezzo il mistero di iniquità si manifesta in modo ancora più virulento e poi arriva il soffio di Gesù Cristo a spazzare via tutto perché il soffio e non per esempio il rombo di tuono l'uragano il diluvio eccetera perché il soffio perché basta pochissimo basta dire guardate che Bergoglio non è mai stato eletto validamente da un vero conclavo non esiste Papa Francesco infatti il diavolo non ha il potere di creare il diavolo può solo camuffare mistificare truffare ma non ha il potere di creare un Papa quindi vedi bene che c'è una sovrapposizione dell'aspetto canonico con quello teologico con quello escatologico è la prova finale dell'articolo 675 del catechismo la Chiesa dovrà affrontare una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti perché la fede dei credenti viene scossa e viene scossa perché uno che sembra il Papa dice delle cose che non stanno non in cielo né in terra e quindi gente tipo Aldo Maria Vali non sa più dove sbattere la testa però siccome cionci antipatico siccome Don Mintella urla l'importante è non dare ragione a loro e poi se la Chiesa finisce all'inferno quello è secondario l'importante è che non abbiano ragione Don Mintella e cionci questa è la cosa che conta più di tutte per loro e quindi poi se il piano di Benedetto fallirà guarda Margherita che lo dice anche il Vangelo quando Cristo tornerà sulla terra troverà la fede ancora? è un interrogativo aperto allora non è detto che che questa prova finale la si superi e quindi vi invito tutti a non sedervi sugli allori cioè la Chiesa canonica visibile può anche essere spacciata per quanto ne sappiamo il futuro potrebbe prevedere una Chiesa cattolica rinata ma catacombale clandestina in un mondo dominato dalla massoneria in un nuovo ordine mondiale vi rendete conto di che scenario ci si prospetta tutto per non dare ragione a Cionci e a Don Nutella per l'orgoglio la superbia i vizi peggiori la ciglia la stupirà la stoltezza l'ira l'invidia tutti questi vizi che hanno sempre una radice emotiva si frappongono fra la realtà la salvezza della Chiesa e il loro ego e questa è una cosa terribile terribile poi dice sai Margherita è stato Cionci che li ha presi subito di petto io sono andato col cappello in mano da loro da tre anni da tre anni già nel 2020 scrivevo le lettere pubbliche ad Aldo Maria Valli Aldo ti prego ci potremmo prendere un caffè per favore perché io sapevo che quelli diciamo si sarebbero impermaliti dell'ultimo arrivato che magari se si pone con tracotanza risulta antipatico crea delle resistenze emozionali io fino all'anno scorso fino a qualche mese fa ho diffuso sul mio canale YouTube Andrea Cionci Codice Razziger degli appelli cordialissimi amichevoli per favore confrontiamoci parliamoci qualche timido spiraglio l'abbiamo visto con il dottor Gulisano che è venuto a una mia conferenza si è convinto col dottor Gaetano Masciullo di Fede e Cultura che invece di darmi dello psicopatico e della feccia del mondo delle lettere come il suo principale professor Zenone ha cominciato ad approcciarsi alla questione con un rigore scientifico cosa di cui lo ringrazio però ti voglio far riflettere su una cosa cioè l'altro ieri Bergoglio ha fatto 3 milioni di spettatori per dire che la guerra è brutta i bambini i poverini eccetera eccetera l'inferno è vuoto tutte queste allora mentre quello macina 3 milioni di spettatori a botta propalando i suoi contenuti gnostici noi qui stiamo ancora con i dubbi il romanziere alla den brown uno sempliferium che sono sinonimi mille dubbi mille eccezioni perché devo farmi vedere che sono più intelligente di ciò capisci che così non ce la si fa no è evidente che la situazione è complicata però potrebbe essere funzionale questa prova a ripulire anche l'istituzione della chiesa da secoli di infiltrazione occulta e quindi poi alla fine potrebbe risultare più candida forse più piccola però si potrebbe ritrovare una cristianità più autentica è certo è esattamente questo quello che dice Papa Benedetto la chiesa sarà inizialmente più piccola ma sarà purificata lo dice lui dice io volevo purificare non solo la curia ma tutta la chiesa quindi io a questi tradizionalisti sto portando il regalo la realizzazione dei loro sogni più proibiti cioè non solo togliere di mezzo Bergoglio ma fare piazza pulita anche di tutti questi massoni ignottici omoeretici che allignano nella chiesa e che la sfregiano in continuazione magari anche annullando il concilio perché attenzione il concilio ha avuto due facce una faccia interna teologica che è rimasta abbastanza integra diciamo a livello dottrinale e poi una faccia esterna quella mediatica che è stata strumentalizzata orrendamente dalla massoneria ecclesiastica però visto come è andata io stesso direi vabbè sapete che facciamo facciamo piazza pulita annulliamolo tutto e rifacciamolo come Dio comanda senza massoneria ecclesiastica quindi non è che io sto difendendo il concilio ci mancherebbe altro però bisogna fare delle analisi corrette per esempio recentemente il professor Martino Mora ha fatto delle analisi di una banalità di una superficialità che mi hanno imbarazzato dice ah beh tu ce l'hai con Monsignor Viganò perché non ti dà ascolto e quindi siccome hai l'ego smisurato ma che me ne importa del sottoscritto mica ne faccio una questione personale una questione giuridica no? anche perché come dico come dico sempre io ho un approccio laico all'inchiesta ma non perché io sia per forza laico o per forza credente cosa che tengo per me stesso ma io sono un giornalista un giornalista che parla di politica non gli si chiede per quale partito vota deve essere obiettivo allora una cosa vi posso dire in termini laici e assoluti che qui è il rischio la sicurezza della patria la sicurezza della nazione perché questo individuo non è che si limita a rovesciare il padre nostro a inserire la ruggiada che è il nettare dei rosa croce nella preghiera eucaristica a portare al collo il buon pastore rosa crociano eccetera eccetera non è che si limita a quello questo interviene pesantemente a dirci come dobbiamo curarci cosa dobbiamo mangiare che dobbiamo accogliere a chi dobbiamo pedire e tutte le balle sulla green economy eccetera eccetera quindi è un flaggello è un incubo per tutti laici e credenti se c'è qualche non credente in ascolto per esempio ti posso dire che una delle mie 90 conferenze organizzate sempre dai fedeli e dai lettori un paio di queste sono state organizzate da persone ate che hanno compreso perfettamente il paradigma storico politico in cui ci muoviamo cioè se la chiesa va a fondo va a fondo l'Italia che è legata a doppio nodo con la chiesa cattolica per dirtene una l'altro giorno stavo facendo una conferenza insieme a Diago Fusaro a San Severino Mar che mi prende un caffè prima della conferenza in questo bar c'era una musica e un bambino di sette anni che danzava faccio caso alle parole di questa canzone che diceva mi piace che ti piaccio che sono perverso che vado in ufficio col rossetto che lo facciamo in due ma se il tre siamo meglio ancora di più capisci? e sto bambino ballava innocente povero figlio povera stella introiettando assorbendo questo marciume ti rendi conto? e io questa roba non la voglio non la voglio e mi devono mi devono ammazzare per fermarmi mi devono ammazzare infatti credo che questo sia un tema che riguarda anche e soprattutto le persone laiche perché comunque riguarda anche il nostro paese anche la nostra nazione e riguarda il concetto di usurpazione che poi va esteso anche ad altri settori ma è fondamentale che il concetto di usurpazione sia entrato nelle stanze del Vaticano perché questo ci dovrebbe far comprendere molte cose di come sta andando il mondo adesso ci dovrebbe far comprendere che comunque siamo agli sgoccioli del tempo in cui tutto viene a galla e noi siamo tenuti a prendere delle posizioni precisamente il bello è che non ci stanno tante posizioni o si sta col Papa o con l'antipapa o con Cristo o con l'anticristo ma non perché Bergoglio sia per forza l'anticristo ma io ripeto le parole di Papa Benedetto quando Seval gli fa questa domanda dice il filosofo Agamben è convinto che lei con le sue dimissioni abbia separato la chiesa di Cristo da quella dell'anticristo e lui invece di dire no ma quando mai io semplicemente non ce la facevo più a fare le scalette dell'aereo ero stanco dovevo pensare al gattino come tutta la vulgata politicamente corretta ci ha ammangito lui dice nella chiesa ci sono persone che sembra che stiano dalla parte di Dio ma in realtà sono contro Dio quindi Papa Benedetto diciamo accettava in toto e questa cosa Seval della sottolinea accettava che lui con le sue dimissioni avesse separato la chiesa di Cristo da quella dell'anticristo è esattamente così cioè lui nel febbraio 2013 ha innescato un doppio processo da un lato la chiesa agnostico modernista avrebbe piano piano manifestato le sue reali intenzioni dall'altro lato delle persone di buona volontà avrebbero scoperto quello che lui aveva fatto decodificando cioè capendo questi suoi input in restrizione mentale larga fino ad arrivare al momento in cui la zizzania deve essere buttata nel fuoco e però i cardinali devono intervenire per esempio Monsignor Genswein che è stato uno dei più fedeli latori dei codici Ratzinger tra l'altro alla Lums dice parole di Papa Benedetto dice se non credete la risposta è nel libro di Geremia ora in Geremia si legge io sono impedito e non posso andare nel tempo del Signore si usa addirittura un termine canonico sovrapponibile al termine canonico io sono impedito e non posso andare nel tempo del Signore ma tutto il profeta il libro del profeta Geremia è impermiato proprio sui impedimenti perché Geremia che vive nell'epoca dell'apostasia del suo popolo viene chiuso in una cisterna e comunica attraverso l'esterno tramite Baruch che è il suo segretario ecco di fronte a una cosa del genere che equivale praticamente a un lenzuolo steso alla finestra ho scritto tono in sede impedita c'è ancora gente che mi dice no ma che vuol dire il libro di Geremia è tanto vasto capisci allora di fronte a canonisti che ti rispondono in questo modo dici ma a questo punto forse il vergoglio è quello che ti meritano poi per fortuna nelle 90 conferenze conosci delle persone meravigliose una elita antropologico spirituale della quale io vedo che anche tu fai parte avendomi dato spazio sulla tua trasmissione perché vuol dire che amate la verità che vi funziona il cervello che non siete preda di interessi da cortile o di puntigli intellettuali ma siete aperti a una verità oggettiva chi l'ha scoperta l'ha scoperta conta poco quello che conta è che vergogliano nel Papa questa è la cosa fondamentale da far capire infatti per noi è importante fare chiarezza su tutte le cose che sono comunque complesse però diventano semplici nel momento in cui si studiano e quindi si tendono a rendere più chiare fondamentalmente quindi la chiarezza è la prima delle cose permettimi una nota su questo come tutti i più grandi capolavori è una cosa che può essere riassunta in due o tre parole ma poi è amplissima è enorme non si finisce più di studiare tant'è che io sono riuscito a sintetizzare la questione in un minuto in un video su un minuto e in 12 vignette a fumetti tre anni di inchiesta 800 articoli 500 podcast sintetizzati in 12 vignette questo vi dice che quanto io ho ricostruito è qualcosa di sovrumano di preparato da secoli come quando Benedetto dice sono il primo papa a dimettersi dopo mille anni non solo questa frase ci dice che lui non è abdicatario ma ci spiega ci dà anche un rimando storico clamoroso perché nel 1013 esattamente mille anni prima Margherita il papa medievale Benedetto ottavo guarda caso la metà di 16 fa anche lui una dichiarazione di rinuncia al ministerium molto simile anche se non uguale a quella di papa Benedetto quindi come vedi siamo in presenza di un progetto che è stato partorito concepito da millenni se uno è cattolico ecco per esempio anche un'altra cosa l'altro giorno 17 dicembre un fulmine a Buenos Aires nel compleanno di Bergoglio colpisce la statua di San Pietro nella chiesa di San Nicolà che tra l'altro è dotata di parafulmini alti metri e metri va a colpire la statua di San Pietro e distrugge l'aureola e le chiavi e questi tradizionalisti si sono dimenticati la tradizione dei segni divini no? cioè da secoli e millenni il popolo cattolico ha sempre guardato ai segni dal cielo c'erano stati anche altri segni no? in precedenza certo pensiamo a quando il fulmine colpisce il cupolone è proprio la notte in cui Papa Benedetto si dimette pensiamo al notissimo episodio delle colombe divorate dai corvi le colombe liberate da Bergoglio pochi ricordano invece che l'anno prima le colombelle liberate da Papa Benedetto volevano rientrare nel palazzo apostolico e lui disse in modo molto tenero vogliono rimanere con il Papa certo perché questi uccellini erano impauriti dai corvi neri che si trovavano fuori quindi il fatto che neanche cioè a questi tradizionalisti del monus petrino non gliene frega niente dei papi i papi gli ultimi papi li odiano delle sorti della chiesa non gliene frega niente dei segni del cielo non gliene frega niente dell'eucaristia in unione col vero Papa gliene frega ancora di meno non so dimmi tu se possono essere considerati cattolici della universi dominici greci se non ne parliamo dell'ecclesia dell'eucaristia ancora meno cioè di che religione sono questi boh della religione per cui manca il coraggio evidentemente la religione dei tiepidi di Don Abbondio di Don Abbondio va bene noi ringraziamo veramente di cuore Andrea Cionci per essere stato con noi questa sera per le spiegazioni che ci ha dato è giunto il momento di fare chiarezza anche su questi temi e speriamo di riavere presto tra di noi Andrea Cionci così potremo proseguire questo discorso che comunque ci interessa parecchio e che viene seguito dalla maggior parte del nostro pubblico grazie Margherita permettimi di permettimi di dire ai nostri ascoltatori che se vogliono un riepilogo in poco più di mezz'ora della questione sul mio canale YouTube Andrea Cionci codice Ratzinger troverete tre documentari in bella vista uno rosso uno blu di essire intelligenti il primo spiega la questione il secondo spiega i codici il terzo spiega l'universo di Domenici Gregis cioè come uscirne se voi vi vedete questi tre documentari avrete un panorama aggiornatissimo e completo dell'intera questione bene perfetto allora grazie Andrea Cionci grazie a tutti per essere stati con noi questa sera e a presto rivederci su questi schermi buona serata e buona fortuna a tutti grazie a tutti